le idee geniale ho un'idea fantastica per un business una start up come faccio a evitare che qualcuno mi rubi l'idea sapete quanti messaggi ricevo ogni settimana così c'è un modo semplicissimo per evitare che un'idea ti venga rubata da qualcuno l'unico modo è eseguirla velocemente realizzata ma se poi qualcuno me la ruba ha già sentito quell'idea non la dico lui non dico lei che fa così tra due settimane due mesi o due anni sarà il punto di partenza non avrà realizzato assolutamente niente se continui avere paura che qualcuno ti possa rubare l'idea non lo farai mai l'unico modo che hai per realizzare la tua idea rivoluzionaria è iniziare e non mantenere il segreto anzi devi fare esattamente il contrario devi parlarne con tutti sentire cosa ti dicono iniziare customer validation cosa ne pensi questa idea non solo cosa ne pensi la ritieni utile quanto la ritieni utile da 1 a 10 è una cosa che non te ne frega niente è carina è bella ma non la useresti mai oppure un'idea fantastica la useresti immediatamente perché ti risolve un grande problema e qui ecco 10 euro subito sono disposto a spenderli questa è la differenza tra uno che parla 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 ma non fa niente è una mente imprenditoriale uno che si rimbocca le maniche e comincia a fare piuttosto che dire 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 anzi pensa 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 poi dice ah c'ho questa idea ma non ti dice niente perché ha paura di realizzarla allora questo è un atteggiamento tipico italiano all'estero in particolare negli stati uniti le idee vengono scambiate costantemente le idee sono gratuite le idee in effetti non valgono praticamente niente perché il costo di produrre un'idea è praticamente zero in un minuto ti possono venire cinque idee diverse ma il tempo per realizzare anche solo una di questo magari sono mille ore di lavoro uomo 10 secondi per pensare un'idea mille ore per realizzarla il rapporto è un po troppo sbilanciato se avete un'idea se avete qualche progetto qualche cosa che volete realizzare da tempo magari l'unico modo che avete per farlo è iniziare fatelo perché se non lo fate qualcun altro lo farà al posto vostro e vi ruberà l'idea ma non perché vi ha sentito vi ha ascoltato vi ha rubato un email o cosa no semplicemente perché se è una buona idea prima poi a qualcuno verrà e chi è un imprenditore la realizzerà gli altri invece saranno ancora lì a parlarsela volete essere persone che parlano 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 ma non fanno niente o quelli che cambiano il mondo ma non necessariamente tutte le idee devono cambiare il mondo e se avete una buona idea cominciate a farla qualunque risultato avrà sarà comunque importante se fallisce sapete che non era una buona idea oppure l'idea buona l'avete realizzata male ma almeno lo saprete e se chiedete uno in fin di vita qual è il più grande rimpianto non sono quasi mai delle cose che hanno fatto ma le cose che avrebbero voluto fare ma non le hanno mai fatte allora se non volete avere rimpianti iniziate a fare ciao visionari